ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vorrei farvi un bel tutorial specifico per una mia amica che non sa fare queste cose ragazzi oggi vi faccio il tutorial di come chiudere le app sul telefono vi volevo raccomandare una cosa è che io ho un secondo canale iscrivetevi che si chiama federica e mary lb purtroppo noi non stiamo facendo più video su quel canale perché non abbiamo tempo ma quando avremo più tempo allora li faremo se ci capite ok che ho fatto ragazzi niente adesso vi mostrerò il tutorial premete questo quadratino e poi premete la x sull'app che volete chiudere guardate io quante ne ho lasciate aperte che scemmolina che sono io lasciate aperte tantissime e così però se volete chiudere tutto premete il cestino e niente adesso abbiamo chiuso le app ma visto che il tutorial era piccolino sai che chiudiamo tutto perché abbiamo lasciato alcune app aperte ancora spostiamo la cartella degli strumenti e ci facciamo un bel tik tok insieme ragazzi aspettate che adesso devo spostare tutto ok spostato tutto ci facciamo un bel tik tok insieme però devo prima girare la fotocamera ci scegliamo questo suono qua prendiamo il calidoscopio prendiamo il calidoscopio ok ragazzi preso il calidoscopio adesso le togliamo il ok ragazzi adesso facciamo il video ok vediamo se vi piace tagliamera scriviamo hashtag calidoscopio con ok pubblica prima subito aspettiamo che si adesso possiamo chiudere tik tok e niente questo è video e se il video vi piace iscrivetevi al canale lasciatemi un like e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche e naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video ciao